Allora, adesso, come sapete, non è che c'è una premiazione vera e propria, ma il primo classificato, Cipolla Simone, offerta da Punto Oro, un bracciale giusto? Valore superiore a 100 euro, quindi? Ok, Assessore, dove è il sindaco? Qua, stai qua, ma ascolta, tu devi sempre rimanere presente, perché dopo ti presentano tutti i problemi di Lonato e Ciempino, non pensare di scappare, perché arrivano tutti i problemi. A me è arrivata la bolletta dell'acqua, la fai di te, le porto in comune. Le bollette dell'acqua non sono comune. Appunto per questo, mi intercede. Va bene? A posto? A posto, grazie mille, grazie Assessore, grazie primo cittadino. La campionessa. Allora, io vorrei chiamare, come tutti sapete, la campionessa del mondo, la signorina, signora Garvin Tosato, campionessa del mondo nel 2021 e nel 2020, categoria che donne? Ok? 22? Sì, ormai, se non ho aggiornato che sono vicino al primo cittadino, per quello che è. Con un brazzale anche. Brava. Chiamiamo anche il don, che almeno fanno una foto anche il don assieme, dai. Vai, Don Silvano. Guarda di qua, Don. Vai. Don Silvano. Per corso come era? Per corso come era? Don, eh sì. Don, girati, dai. È molto divertente. Molto divertente. Quindi è da ripetere. Assolutamente. Ok? Vi aspettiamo tutti l'anno prossimo, eh? Grazie, grazie della partecipazione. Grazie, grazie. Grazie.